Per me oggi è una bellissima giornata perché finalmente Milano ha un candidato sindaco su cui ricostruire il suo futuro e si chiama Stefano Parisi e quindi su questo lavoriamo pancia a terra. Per quanto riguarda Roma, Roma non merita questo balletto e io mi siederò al prossimo tavolo quando ci sarà l'ultimo e definitivo nome per rilanciare questa città. Quale deve essere il criterio? Io ce l'ho ma a differenza degli altri non lo dico. Quale deve essere il criterio per scegliere il candidato a Roma? Al limite, se non si riesce a trovarlo intorno a un tavolo, si facciano primarie per la città. Ci sono uno, due, tre, quattro, cinque persone a disposizione. Facciamo scegliere i cittadini romani. Senta, ma il nome che lei ancora non vuole dire è un nome che già circola o è un nome nuovo? Andiamo oltre? Chiudo l'argomento. Io non chiudo mai niente. Non chiudo mai niente, però mi interessa avere un nome e cominciare a lavorare. Per le riunioni abbiamo fatto abbastanza. Grazie.